in queste punizioni a me piace molto calazze perché uno in queste punizioni a me piace molto calazze perché uno in queste punizioni a me piace molto calazze 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 Calazze perché uno... all'interno dell'area di rigore trova il fuoco in testa ad allontanare di Sanetti poi Seedorf tutti in gioco Calazze la mette giù in queste punizioni a me piace molto Calazze in queste punizioni a me piace molto Calazze in queste punizioni a me piace molto Calazze perché uno... in questo punizioni a me piace molto Calazze speriamo che escono cose migliori da adesso in avanti intanto il gol... ecco qua abbiamo rivisto intanto il... come dire... fra i nostri migliori attaccanti a questo punto dobbiamo inserire anche Cacca Calazze è... spettacolare direi che si intanto Criscito va via bene sulla sinistra dentro a cercare Iaquinta è gol ancora di Calazze incredibile ma vero abbiamo visto la seconda autorette di Cacca Calazze li vediamo guarda si ma lo vediamo lui calza lui calza perché calci che si è messo male anche questa volta certo che ci ha messo del suo cerca di controllare la palla va laterale non rischia assolutamente nulla quando si vogliono affrettare le giocate anche difensive si commettono questi errori